Il ferro da stiro a vapore Philips Perfect Care Acqua Caldaia è caratterizzato dalla tecnologia Optimal Temp. Insieme ai 5 bar di pressione e vapore continuo fino a 120 grammi minuto e colpo vapore da 220 grammi ci consente di avere una perfetta combinazione tra vapore e temperatura. Questa tecnologia ci consente di stirare in maniera semplice senza ulteriori regolazioni, sicura su tutti i capi anche i più delicati e veloce. Non esiste infatti ferro più veloce grazie alla piastra Steam Glide che è top di gamma di Philips. Tutto questo è stato certificato dagli esperti di tessuto indipendenti. Altre caratteristiche che contraddistinguono il ferro da stiro Perfect Care Acqua sono il sistema anticalcare eside calc, pratico ed efficace, il serbatoida 2,2 litri e la sicurezza data dal blocco ferro per poterlo spostare in maniera facile e pratica. Ultima caratteristica, ma non ultima per importanza, è la Eco Passport, cioè l'impegno di Philips nel produrre prodotti che rispettino l'ambiente e la società per favorire lo sviluppo di prodotti dal design ecosostenibili.